Ciao a tutti, sono Roxy e benvenuti sul mio canale. Hola a todos, io sono Roxy e bienvenidos a mi canale. Ciao a tutti, io sono Roxy e benvenuti sul mio canale. RoxyRoxTV Faccio ogni video in italiano, inglese e spagnolo perché voglio aiutare più gente possibile. I video in italiano vengono caricati di lunedì che da oggi in poi sarà chiamato Italian Monday. I'm doing each video in English, Spanish and Italian because I wanna help as many people as I can. The English videos are uploaded on Tuesday and I'm gonna call it English Tuesday. Io hago todos los videos in ingles, spagnolo e italiano perché voglio aiutare più gente. Los videos in spagnolo sono subidos il miércoles che io chiamare Spanish Wednesday. Vi adoro, I love you, os adoro, Roxy. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie a tutti.